buona giornata amici da massimo fughetti oggi è sabato 9 aprile 2022 ebbene siamo quasi vicino alla pasqua domani a domenica delle palme le messe saranno un pochino più lunghe perché verrà data la lettura al passio ovvero tutta la parte terminale della morte e passione di gesù e appunto con questa atmosfera vediamo qual è il santo del giorno il santo del giorno è un santo molto molto famoso specialmente in oriente ma anche dalle nostre parti e poi vedremo il perché si tratta di san demetrio san demetrio di tessalonica è il più famoso dei soldati d'oriente martirizzati dopo san giorgio combatte i barbari che assediarono tessalonica l'odierna salonico in grecia e fu arrestato per avere predicato il vangelo e assassinato nei bagni pubblici della città dove era stato imprigionato intorno al 418 le sue reliquie furono depositate nella chiesa di tessalonica che da allora divenne un grande centro di culto del santo ma così per quanto riguarda le curiosità i misteri della storia parte del suo corpo fu ritrovato nel 1520 nella chiesa di san lorenzo in campo proprio nella nostra provincia fu ritrovato nella cripta ebbene gran parte di queste reliquie furono poi restituite a salonico nel 1980 insomma una sorta di gemellaggio tra san lorenzo in campo e salonico vediamo ora le previsioni del tempo intanto diciamo che diciamo che il sole questa mattina è sorto alle 6 e 34 e tramonterà alle 19 e 44 il tempo si mantiene stabile come nella giornata di ieri nella sua perturbabilità nella sua incertezza e vediamo come le previsioni dicono che fino al pomeriggio i cieli saranno nuvolosi o offuscati da velature poi il transito di un veloce fronte freddo con rovesci e temporali insomma le temperature si abbassano rispetto al garbino al vento di garbino che è aspirato fino a stamattina ancora questa mattina è piuttosto caldo e vediamo ora le pagine dei giornali a partire dal resto del carlino sulla pagina di fano dove vediamo la fotografia della consigliera regionale marta ruggeri assedio novax alla pagina facebook facebook della consiglieri marta ruggeri sommersa da post oltraggiosi dopo la solidarietà espressa ai sindacati convinti sostenitori della vaccinazione ebbene la pagina facebook della consigliera è finita nel mirino dei novax dell'altro ieri notte fino a ieri mattina è stata sommersa infatti da 360 poste tra commenti filmati e immagini e non sono stati commenti positivi gradevoli insomma quelli che sono stati espressi se ne sta già occupando il commissariato di fano a cui si è subito rivolta alla consigliera regionale a scatenare i novax sarebbe stata la solidarietà espressa dalla consigliera ai sindacati nella giornata del 4 aprile quando l'ingresso della cgl di ancona era stato imbrattato da una scritta oltraggiosa insomma è bastato un semplice commento per scatenare la reazione dei novax e poi vediamo adriatic link questa è forse la notizia del giorno carrara grida ci hanno svenduto ieri c'è stata un'assemblea di fuoco nel quartiere è stata organizzata a casa betlem nell'oratorio di san cesario i residenti si sono confrontati faccia a faccia con il sindaco massimo serie il vice sindaco cristian fanesi in realtà il comune non è l'imputato principale della protesta dei carraresi in quanto l'imputato principale sarebbe terna ovvero l'ente che si occupa del del trasferimento dell'energia elettrica ente che ha deciso di realizzare un impianto di conversione dalla corrente alternata alla corrente continua proprio in adiacenza alla centrale elettrica già penalizzante per tutta la frazione di carrara ebbene i residenti più che chiedere opere compensative per riparare il disagi che questo nuovo impianto procurerà alla frazione hanno chiesto al sindaco di arginarlo cioè di bloccarlo di far sì che terna lo realizzi da un'altra parte perché già carrara ha i suoi problemi da sanare e infatti ci sono problemi anche causati dall'attuale centrale come un rozio forte e persistente che aumenta anche nelle giornate di pioggia come la svendita come il minor valore delle case che sono vicine in un raggio di 500 metri della centrale venderle sarà un problema è certo sarà anche una minor possibilità di realizzare un sostegno insomma utilizzare un prezzo sostenuto per quanto riguarda le nostre abitazioni e poi vediamo insomma che c'è stata molta agitazione comunque il sindaco incontrerà si è impegnato ad incontrare i tecnici di terna e a cercare di così far sì che le richieste dei carraresi vengano esaudite sarà difficile ma gli amministratori ci proveranno ed ora vediamo le altre notizie sul resto del carlino la cooperativa contatto riparte a suon di inaugurazioni riapre abiti senza tempo il negozio dedicato ai vestiti usati e al vintage che si sposterà da via san paterniano alla nuova sede di via rainerio nei pressi della cattedrale biodigestore si avvicina al giorno cruciale e siamo a barchi a barchi è in programma il 27 aprile prossimo la quarta riunione della conferenza di servizi in ballo il via libera all'impianto oppure il diniego si terrà dunque il 27 aprile la quarta riunione della conferenza di servizi sul biodigestore di barchi e molto probabilmente si tratterà della seduta decisiva quella decisoria quella che decreterà il via libera all'impianto oppure al contrario il diniego alla sua autorizzazione per questo il comitato a difesa del territorio si costituirà per contrastare la realizzazione della struttura composto da oltre 1300 aderenti ed è chiaramente in effibrillazione e lancia comunque un nuovo appello alla provincia a cui compete al termine della conferenza di servizi l'emanazione del prevedimento autorizzatorio unico o la sua bocciatura insomma c'è il comitato che sta guardingo in attesa degli sviluppi e cerca di prevenire le mosse che potrebbero causare disagio agli abitanti di barchi a urbino l'arcivescovo tani termina il suo mandato il prelato ha compiuto ieri 75 anni e il timore degli urbinati e quello che non ci sia un successore per quanto riguarda la diocesi di urbino è che questa venga accorpata a quella di pesaro da tempo ci sono timori che questo accada fa sorgere un comitato spontaneo per una nuova nomina questa andata in pensione e ieri monsignor giovanni tani arcivescovo di urbino urbania sant'angelo invado ha concluso il suo mandato con il compimento di 75 anni di età ebbene anche gli altri prelati hanno diritto alla loro pensione urbino roma ora si va in bus e più treno l'ami annuncia finalmente l'accordo con le ferrovie un unico biglietto a due corse al giorno il viaggio per la capitale durerà quattro ore ebbene ora si potrà andare in autobus fino a fabriano con un unico biglietto per poi salire in treno e dirigersi verso la capitale insomma era una carenza particolarmente sentita quella della soppressione di questa combinazione ora l'ami è riuscita a rifristinarla e c'è la soddisfazione di tutta l'amministrazione comunale sindaco gambini in testa e ovviamente anche per quanto riguarda l'ami e poi vediamo una notizia che riguarda cantiano ve la segnalo qui a fondo pagina della pagina 20 del resto del carlino la turba di cantiano si conferma come solenne processione la turba è una delle più emozionanti direi belle manifestazioni che si svolgono durante la pasqua nel nostro territorio è una manifestazione antica la turba pur nella fase di incertezza nella organizzazione di eventi dalla forte impronta aggregativa dopo due anni di fermo per la pandemia tornerà il venerdì santo ovvero il 15 aprile prossimo per le vie del paese recuperando quella che era la propria impostazione originaria quella processionale come documentata fin dal 1600 pensate quanto è antica questa manifestazione questa rappresentazione sacra che ripercorre tutte le tappe della passione di gesù e vediamo anche la pagina di pesaro del resto del carlino dove si parla dello scandalo delle green pass green pass venduti falsi ovviamente venduti per 250 euro parla in questo caso una indagata una di quelle persone che ha appunto comprato il documento l'ho comprato per paura di vaccinarmi ha dichiarato è una donna impegnata in politica e nel sociale con la regione ha messo tutto il certificato verde mi serviva per il mio ruolo ha dichiarato le sue inizioni sono vs è poco più che sessantenne risiede nell'entroterra urbinate questa è una delle 26 persone indagate per avere comprato i falsi green pass venduti dal dottor roberto bonato con studio a cattolica ora e agli arresti domiciliari costavano 250 euro cada uno 100 se l'acquirente era un amico oppure un complice per acquistarlo servivano i soldi pronta cassa e la tessera sanitaria ovviamente insomma erano fatti in maniera truffaldina però con tutte le regole multe annullate a carriera il no della prefettura ebbene la prefettura di pesaro ha presentato ricorso contro la sentenza del giudice ha impugnato in appello l'azzeramento della multa per 800 euro a carico di umberto carriera decisa in primo grado dal giudice civile di pesaro flavia mazzini per quanto riguarda la infrazione che il ristorante uno dei ristoranti di carriera avrebbe fatto durante le norme in vigore del lockdown multe annullate a carriera il no della prefettura e quindi vedremo questo secondo giudizio come si concluderà se la multa verrà confermata oppure verrà revocata come ha deciso in prima istanza il giudice e poi vediamo che a proposito del covid pesaro realizza un primo giardino per le vittime il campus diventa luogo della memoria il percorso che rimanda tra passato e futuro sarà inaugurato il prossimo 21 aprile coinvolti gli studenti del marconi al centro abbiamo un'opera di nobili vediamo esprime la lacerra azione vediamo un po come questi due termini si uniscono per significare un terzo concetto che nasce dal tronco di una quercia colpita dalle bombe insomma bisogna interpretarla ma il significato è questo trenino delle meraviglie esordio a pasquetta il prossimo 18 aprile a pesaro il convoglio storico ritorna sulla tratta fabriano per pergola 20 corsi fino a fine anno per soddisfare svariati interessi si parla di una notizia che riguarda l'entroterra pesarese e insomma ripristinare anche in maniera saltuaria questa tratta che da pergola arriva fabriano è un'impresa non solo di grande valore turistico ma anche di grande valore proprio funzionale perché poi riuscire a ristabilire il percorso ferroviario magari anche insieme alla tratta fano urbino con la direzione verso fossombrone e quindi pergola e fabriano per arrivare a roma sarebbe un sogno da realizzare al momento questo sogno si realizza in a tratti e in maniera saltuaria gabice invece scommette sul grandofondo squali a maggio un weekend da 10.000 presenze una nuova cicloturistica che desta grande attenzione grande partecipazione che si unisce a tante le cicloturistiche che si stanno organizzando in questo periodo nel nostro territorio a fano per esempio è in atto una grande cicloturistica organizzata da fano porre la trei un muro di burocrazia tra noi e i profughi la protesta di una volontaria erminia borzi troppi passaggi e lungaggini per legalizzare la presenza dei rifugiati nelle nostre case e almeno per quanto riguarda l'ospitalità dei profughi la burocrazia potrebbe fare una eccezione in realtà le pratiche sono tante e sono laboriose e diamo un'occhiata anche al corriere adriatico di oggi dove vediamo che la pagina di fano è dedicata appunto alla alla assemblea che si è svolta ieri a carrara chiesto un indenizzo di 200.000 euro per chi abita vicino alla centrale e sopporta tutti i disagi che la centrale provoca animata riunione a carrara sono in gioco opere compensative per un valore di circa 8 milioni sì le opere compensative sì ma l'obiettivo principale è quello di spostare la localizzazione di questo nuovo impianto così progettato da terna dalla dalla zona ridosso dell'attuale centrale ad una zona più periferica più isolata magari in una cava abbandonata vicino al fiume metauro la festa del cavolo da il via alla rinascita di metauriglia questa è un'iniziativa che è stata presentata ieri all'ufficio turismo è una iniziativa che consente grazie ad una coltivazione tipica della zona di fano della metà della metà del secolo scorso ma che ha avuto anche origini dagli anni 30 ovvero da quando la frazione di metauriglia è stata realizzata con le cosiddette casette del giudi del del duce una una possibilità di rinascita di carattere economico ma anche di carattere aggregativo di carattere culturale nel segno del cavolo metauriglia risorge era nata negli anni 30 come un borgo rurale e ad opera del governo fascista con 115 case ognuna dotata di un ettaro di terreno coltivabile a ortaggi e proprio il cavolo tardivo di fano aveva si era imposto in questo terreno e aveva anche così si era espanso un po' in tutte le campagne fanesi ed era un prodotto che aveva conosciuto un grande successo nei mercati anche internazionali poi con l'arrivo della produzione massiva questa particolarità è diminuita fino a quasi a cessare metauriglia ricaduta nell'ombra ora invece risorge grazie al comitato che ha preso le redini di nuove iniziative il fulcro è quello del circolo albatros ebbene tante iniziative dal 23 aprile prossimo fino al 25 ma poi ci sono anche iniziative propedeutiche dal 21 in poi tra degustazioni mercatini visite guidate narrazioni spettacoli in un contesto che in piazzale pucci avrà il suo fulcro di animazioni insomma ricordatevi nel calendario di segnare queste date dal 21 al 25 ci saranno tante iniziative un po' a fano per quanto riguarda sempre metauriglia è un po' proprio a metauriglia alla riscoperta di questa frazione ed ora guardate questa fotografia guardate che enorme pesce ha pescato Emiliano Pagnoni che ha veramente raggiunto un record personale ha pescato uno storione di 45 chili e poi lo ha rigettato in acqua non è la prima volta che succede questo in precedenza è stato pescato uno storione un pochino più piccolo ma sempre molto grande da 30 35 e chili entrambi sono stati rilasciati e poi vediamo come il Corriere Adriatico si occupi delle mura malatestiane che costeggiano la rocca malatestiana erano stati individuati dei crolli insomma dei distacchi del paramento esterno qui lo vediamo in questa fotografia ed era stato preventivato un intervento di somma urgenza ma questo intervento era stato così proposto un anno fa un anno fa di somma urgenza ancora non è stato realizzato e proprio in questi giorni è stata nominata l'architetto fanese Silvia Manna per quanto riguarda la direzione dei lavori e poi è stato nominato la geometra Carmen Taddei per quanto riguarda il coordinamento per la redazione del piano di sicurezza quindi due professionisti per realizzare questi lavori che speriamo vengano compiuti al più presto prima che si siano si verifichino danni irreparabili non si registrano invece sviluppi dopo la denuncia del presidente del centro studi vitruviani Dino Zacchilli relativi alla rovina veneno di un piccolo tratto di mura romane inglobate in quelle malatestiane all'altezza dell'istituto maestri e pie venerini anche lì sono visti sono segnalati alcuni distacchi ma lì non c'è nessun progetto di intervento e quindi di restauro. A Isola del Piano è fiorita la primavera della legalità Isola del Piano con la legalità ha un rapporto molto molto stretto con l'impegno antimafia dei giovani alla fattoria gli studenti e con mari albanese verrà anche Don Ciotti si tratta degli studenti del liceo Mamiani di Pesaro che hanno incontrato nella fattoria della legalità di Isola del Piano mari albanese premio donna siciliana 2017 per l'impegno civile letterario insieme al movimento antimafia e per la divulgazione della cultura della legalità. Montalfoglio diventerà un gioiello Montalfoglio è una frazione di San Lorenzo in campo al via la riqualificazione del borgo sono stati progettati lavori in varie tranche per 400 mila euro con il recupero di mura e della torretta medievale e sono partiti anche i lavori per la pavimentazione in pietra di ingresso al borgo è un intervento da 125 mila euro che riguarda la piazza San Martino e i vicoli limitrofi dunque anche Montalfoglio è interessante poi andare a vedere questi piccoli borghi così sparsi nella nostra provincia di cui si sa poco e spesso vengono trascurati. Vediamo ancora la pagina di Senigallia dove si parla di ciclabile, dossi artificiali a doppio senso via ai lavori sulle lungomare in sala trucco. Da Cesano al Cernin all'opera per la viabilità e sicurezza dei pedoni Olivetti ascoltiamo le segnalazioni il sindaco Olivetti che ha fatto un sopralluogo in merito a queste zone di particolare interesse turistico. Apriamo anche la pagina di Pesaro sul Corriere Adriatico dove si segnala il logo di Pesaro capitale nazionale della cultura. Lo vediamo qui in questa fotografia tenuta il logo tenuto in mano dalla ragazza che lo ha realizzato. Si tratta di Jessica Sinigallia che ha creato questo disegno durante gli esercizi di cittadinanza svolti per elaborare il progetto del dossier di candidatura appunto di Pesaro come capitale nazionale della cultura. I colori sono quelli tipici della città dall'azzurro del mare al verde delle colline, lo vediamo qui, le forme utilizzate invece guardano un po' al futuro, questa forma stilizzata della P. E il logo verrà presentato oggi a Procida durante la cerimonia che darà il via all'anno della capitale della cultura 2022, poi domani 9 aprile all'abit di Milano. Slitta la mezzanotte dei piccoli il Caterraduno a Baia Flaminia, quel Caterraduno che non si farà più a Senigallia ma che si farà a Pesaro. Il turismo riparte dagli eventi all'aria aperta, tornano il festival e le manifestazioni d'estate, c'è una rimodulazione degli spazi dalle piazze ai giardini secondo quanto preventivato dall'assessore Daniele Vimmini. E poi c'è il rebus dell'utilizzo di Rocca Costanza che sembra un po' che i lavori lì si stanno dilungando per cui sarà difficile che sarà pronta, sarà visitabile molto molto presto. Il complesso è ancora un cantiere aperto, occorre capire infatti se ci sono i tempi tecnici per bandire l'edizione del 2022 del ROF con il cinema all'aperto nel fossato altrimenti si dovrà dirottare verso altre location. Sono due iniziative, quella del ROF e il cinema all'aperto che dialogano per quanto riguarda la promozione turistica della città. Case disabitate vendute a un euro a Cantiano arrivano 5.000 richieste. Ebbene è una delle iniziative assunte dal sindaco Alessandro Piccini per attirare l'interesse sulla località. Una delle più belle località della provincia, abbiamo visto come venerdì santo si realizza in questo paese la turba, ma vederlo così a ridosso degli appennini è veramente una cosa fantastica. Vieni a lavorare a Pesaro, c'è il mare, il pronto soccorso, Patriti lancia il bando. È il dirigente del reparto di chirurgia di Marche Nord, Alberto Patriti, che lui stesso cerca di attirare l'interesse dei colleghi per venire a lavorare in ospedale a Pesaro e a Fano. Che cosa dice Patriti? Ma che cosa aspettate? A Pesaro c'è il mare, è una città vivibile, si va in bicicletta, non c'è bisogno di percorrere lunghe distanze in macchina e quindi venite come ho fatto io, che dall'Umbria sono venuto a Pesaro. La promozione è stata posta sul LinkedIn del primario di chirurgia di Marche Nord, ma spunta anche un concorso in Romagna. Per quanto riguarda la cronaca, colpo grosso alla BNP, spariscono quintali di alimenti, eppure la cassaforte, un bottino ingente di 40.000 euro, scatta l'allarme e la banda fallisce però alla My Spirits. e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7. Intanto vi auguro un buon weekend e soprattutto una buona domenica delle palme. Buona giornata.